È stata una partita fantastica sia da giocare che da vedere, penso, la squadra ha fatto una prova maiuscola sia fisicamente che appunto tecnicamente. C'eravamo imposti degli obiettivi prima di giocare e sono stati ampiamente rispettati. Siamo andati sotto negli ultimi dieci minuti, poi c'è stata una grande prova di coraggio e di tecnica da parte della squadra che ha messo il cuore davanti a tutto ed è riuscita a segnare all'ultimo minuto, allo scadere e quindi penso che non abbia prezzo una cosa del genere. Non è finita qui perché adesso arriva un altro ostacolo per saltarlo e andare decisamente avanti ancora di più. Manchester, altra squadra irlandese insieme a Leinster, sono squadre molto fisiche nei primi otto giocatori e quindi dobbiamo cercare il più possibile di controbattere questa loro fisicità con la mischia per poi dare la possibilità di difendere verso giocatori molto abili e veloci che vengono anche dalla nazione irlandese che cercheranno di insinuarsi ma la nostra difesa ha dato segni molto positivi sia nei primi otto che nei tre quarti quindi ci aspettiamo una grande prova. Sbaglio? Ho sentito tanto entusiasmo quindi c'è carica abbastanza per affrontare questa partita nel miglior modo possibile? Sì, carica estremamente positiva, dettata dal pareggio e comunque dalla volontà di fare un'ulteriore sfida un'ulteriore sfida molto positiva contro una squadra ai vertici del rugby europeo e mondiale quindi tutto ciò penso sia un fattore in più per la squadra e per una performance alquanto positiva. Per quanto ti riguarda, stagione molto bella? Stagione a mio parere positiva, non me lo aspettavo, è stata veramente una piacevole sorpresa avevo paura perché c'era molta competizione all'interno del ruolo però questa competizione ha dato la possibilità a tutti di crescere, aumentare il livello medio e posso solo ringraziare il Benetton per questo. E allora cresciamo e invitiamoli a Monigo? Cresciamo e siamo tutti presenti venerdì sera perché il sdicesimo uomo, il pubblico, sarà l'aspetto fondamentale per la sfida.